La collaborazione con Bacardi ieri è nata un po' per caso, con una sfida lanciata su un progetto, su una marca in cui Bacardi crede molto, che è il Tequila Patron. Abbiamo provato a raccontare ai ragazzi circa tre mesi fa di ideare e ragionare su potenzialmente degli eventi che accompagnassero la nuova referenza del Tequila Patron e il Sielo, la Tequila Ultra Premium che ci sarà. Devo dire la verità è stato un percorso estremamente stimolante, i ragazzi oltre ogni aspettativa ci hanno sorpreso, ci hanno seguito e ci hanno voluto coinvolgere nella loro ideazione e progettazione e la cosa più sorprendente e stimolante è stata la realizzazione odierna. Sono stati tutti degli elaborati di assoluto rilievo e la bellezza è stata l'energia, l'adrenalina, la positività e il sorriso che tutti hanno voluto condividere con noi.